Il camionista che causò l'incidente in autostrada ha costato la vita a due volontari animalisti all'uomo è stata anche sospesa la patente di guida. Ritrovato nel torrente Bevano un armadietto con sette fucili era stato rubato due mesi fa a Monbaroccio. Si svolgeranno all'aperto i funerali di Cristian Fiocca morto nel tragico schianto sulla Montelabattese e domani al campo sportivo di Osteria Nuova l'ultimo saluto al giovane papà. Gestione dei pazienti covid per Marta Ruggeri la regione fa figli e figliastri. La consigliera denuncia il carico di lavoro per Marche Nord e la compressione del diritto alla salute per chi soffre di altre patologie. Via Torno, dimenticata dal Comune di Fanno, l'appello di un residente che chiede lavori di asfaltatura non vengono eseguiti da più di 40 anni. La Metafly di Lucrezia festeggia 30 anni di successi. Nonostante la pandemia e il rincaro delle materie prime, i fatturati sono aumentati e l'azienda continua ad investire sulla tecnologia. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito, ha patteggiato due anni e tre mesi di carcere. Sebastian Marco Titta, il camionista leccese di 24 anni, accusato e ora condannato per aver provocato il tragico incidente sull'autostrada A14 nel Comune di Gradara, costato la vita a due volontari animalisti e al ferimento di altre due persone. Nello schianto, avvenuto 7 febbraio 2021, erano morti su un colpo Federico Tonin ed Elisabetta Barbieri, staffettisti per le adozioni di cani e gatti. All'esito dell'udienza preliminare che si è tenuta oggi nel Tribunale di Pesaro, davanti al GUP Giacomo Gasparini, è stata accominata al giovane anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per due anni. Un armadietto blindato, contenente sette fucili, è stato rinvenuto lungo il Bevano, il torrente che attraversa via Turlo a Monbaroccio. Lo ha avvistato questa mattina intorno alle 9.30, un contadino che stava lavorando la terra con il trattore. L'uomo ha subito pensato di allertare per Franco Generali, responsabile del presidio della Polizia Locale di Monbaroccio, che proprio in quel momento era in servizio e stava passando di lì. L'agente è ricollegato all'armadio con il furto avvenuto il 23 novembre scorso nello stesso comune all'interno di un'abitazione. Così, oltre ai carabinieri, è stato contattato il proprietario, giunto con la chiave a dimostrazione del colpo subito due mesi prima. Sul posto è intervenuta anche una ditta con un mezzo meccanico per recuperare il mobile del peso di circa due quintali. E adesso la sanità. Con l'intervento di Marta Ruggeri, che in consiglio regionale ha denunciato il carico di lavoro per gli ospedali di Marche Nord nella gestione dei pazienti Covid, con un conseguente rallentamento delle cure per chi soffre di altre patologie. La regione fa figli e figliastri. Ha lanciato un grido d'allarme la capogruppo dei Cinque Stelle, Marta Ruggeri, che durante la seduta odierna dell'Assemblea Legislativa delle Marche, ha messo in luce la situazione critica nella provincia di Pesero Urbino, dove gli ospedali di Marche Nord e le strutture territoriali assistono gran parte dei pazienti marchigiani affetti da Covid. Questa stessa pressione, ha detto Ruggeri, che sul tema ha presentato un'interrogazione, rallenta visite mediche, diagnosi, terapie tempestive e interventi chirurgici riguardanti le altre patologie. Esigo coerenza, ha detto, nelle scelte della giunta regionale. Insieme alla collega Lupini, che cosa ha chiesto all'assessore Salta Martini e qual è stata la sua risposta? All'assessore Salta Martini questa mattina avevamo chiesto che si faccia carico la regione di una redistribuzione dei malati Covid, che gravano enormemente sulla nostra provincia. I dati ultimi, più recenti, indicano che a fronte di un 8% di contagi abbiamo un'occupazione dei posti letto del 43% e quindi questa pressione sui nostri ospedali, a nostro avviso, non è più sostenibile e non è neanche una questione equilibrata all'interno della regione. Quindi abbiamo chiesto che venga ridistribuito il carico, si faccia quello che l'assessore e i tecnici ritengono più opportuno. Per noi potrebbe essere l'apertura dei Covid Center di Civitanova, ma anche altre scelte. L'importante è però che i cittadini della nostra provincia, del Pesarese, abbiano una risposta alle esigenze di salute che ad oggi non hanno purtroppo, perché come sapete il personale non è stato aumentato, sono stati aumentati semplicemente i posti letto che poi vanno gestiti. Quindi per far fronte alle esigenze che abbiamo sono stati incontrati altri servizi. Pensiamo semplicemente per esempio alla chiusura del reparto di psichiatria di Pesaro. Quindi gli operatori sanitari sono stati trasferiti a Galantare, dove sono stati aperti 70 posti letto, come sapete. Ecco, Saltamartini prenderà provvedimenti? Saltamartini ha detto che per ora non lo farà e lo farà eventualmente quando i casi saranno maggiori. Ma l'assessore parla sempre e solo delle terapie intensive e si scorda di citare anche quelle semi-intensive, appunto come dicevo prima, la sanità territoriale, perché i numeri che dobbiamo analizzare sono quelli complessivi, non solo quelli delle terapie intensive. Tutto questo peso grava per quasi la metà della gestione della malattia Covid sulla nostra provincia. Non è più tollerabile. Si terranno domani alle 14.30 al campo sportivo di Osteria Nuova i funerali di Cristian Fiocca. Il pesarese morto nell'incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi lungo la Montella Battese. La celebrazione si svolgerà all'aperto per permettere alle tante persone di dare l'ultimo saluto al giovane papà nel rispetto delle norme anti-Covid. Aveva pugnalato un connazionale con cui divedeva l'appartamento in Germania dopo un litigio scaturito per futili motivi. Il quarantenne su cui pendeva un mandato di arresto europeo è stato rintracciato dai poliziotti della squadra mobile di Ancona, sezione criminalità organizzata, all'interno di un alloggio condiviso con diversi extracomunitari. All'epoca dei fatti, nel settembre 2019, aveva aggredito l'amico colpendolo anche ad un occhio con un bicchiere. Inoltre la vittima aveva riportato una grave ferita sulla spalla costituita da un lungo taglio di 12 cm e profondo 2. Questa mattina alle prime luci dell'alba gli agenti della polizia, dopo una serie di controlli nelle case limitrofe alla stazione ferroviaria, hanno individuato lo straniero che è stato portato nel carcere di Montacuto a disposizione della Corte di Appello di Ancona in attesa della convalida del provvedimento ai fini dell'estradizione. Adesso passiamo alle vostre segnalazioni che ci portano in via Torno a Fano una strada, pensate che non viene asfaltata, da circa 40 anni. Bunche, avvallamenti e il maltempo che peggiora la situazione. Sono tanti cittadini che ci segnalano strade da sistemare e voragini pericolose. Oggi siamo in località Falcineto, nel comune di Fano, dove un residente lancia un appello al comune per sistemare via Torno, che non viene asfaltata, ci ha detto signor Talevi, da circa 40 anni. C'è l'acqua quanto piove, non è che rimane lì, allora crea delle buche. E poi, su in cima, c'è circa mezzo metro d'acqua quanto piove, tutti i due lati. Ed è una strada anche molto trafficata. Ci sono i camion delle cave che passano in continuazione. Praticamente o togliere l'acqua oppure deviare il camion dall'altra parte. Questi anni avete avanzato delle richieste al comune? Io ho telefonato qualche volta in comune, ma come parlare col muro. Perché anche il sindaco cammina a piedi, lo vede, ma... Tante volte al mattino lo vedo camminare lassù. Si spera che possa rientrare nel prossimo piano dell'asfaltatura? Appunto, perché ho visto, infatti su Fanno TV, che c'è un piano di asfaltatura, ma questo non è in programma. E manca anche l'illuminazione? Sì, manca anche l'illuminazione, sì. Ma è più importante la strada che l'illuminazione. Perché la strada veramente, se uno, io andavo in bicicletta ho dovuto smettere, perché la strada è prendere in un crepaccio, è pericoloso, molto pericoloso. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Iesi, località Colle Onorato, per un piccolo velivolo da turismo che ha avuto un incidente durante un volo di addestramento. L'elicottero ultraleggero, partito dall'aeroporto di Falconara dopo il tragitto fino a Iesi, avrebbe avuto difficoltà durante la fase di atterraggio, inclinandosi sul lato. Iesi, due passeggeri che si trovavano a bordo, sul posto anche il 118 e gli agenti del commissariato. Cambiamo argomento. Nonostante la pandemia e il caro energia che ferma due imprese su tre, c'è chi resiste e anzi aumenta i fatturati come una nota azienda di Lucrezia di Cartoceto. È passata dai 9 milioni del 2020 ai 13 milioni dello scorso anno. La Metalfly di Lucrezia di Cartoceto, l'azienda specializzata nella produzione di articoli in ferro per i mobili, che nonostante l'emergenza sanitaria e i rincari di carburanti e bollette, ha raggiunto gli obiettivi prefissati. A raccontarci delle sfide superate e future dell'azienda che opera nel settore da quasi 30 anni è il titolare Maurizio Cagnoli. Come avete affrontato questi due anni di pandemia e quali sono state le difficoltà? Allora, le difficoltà praticamente le ha avute tutto il mondo. Noi abbiamo avuto queste difficoltà sul reperire la materia prima ferrosa. Anche qui abbiamo avuto dei rincari molto forti, superiori al 150%. Però noi ci siamo praticamente cavati abbastanza bene perché nel 2020 abbiamo fatto lo stesso fatturato del 2019, nonostante un mese e mezzo di lockdown. Invece nel 2021 abbiamo fatto una percentuale, più del 40% di fatturato rispetto al 2020. Ecco, quarantene e isolamenti stanno ancora incidendo sull'attività? Ma diciamo che le quarantene adesso ce ne sono, isolamenti lo stesso e in questi primi giorni dell'anno ne abbiamo ancora di più rispetto agli ultimi mesi passati. L'organico, ci ha spiegato il titolare, è formato da 80 persone che lavorano nei due stabilimenti e ad oggi in 10 sono a casa perché contagiati o venuti a contatto con un positivo al coronavirus. Parlava prima appunto di un aumento di fatturato, qual è la vostra forza? Noi abbiamo lavorato molto sulle innovazioni, abbiamo investito sulla tecnologia e di conseguenza abbiamo tirato fuori un prodotto che ci ha dato una bella spinta sul fatturato ed è la rete per i letti. Ci ha aperto anche le frontiere, stiamo lavorando molto anche all'estero. I clienti italiani ci danno tantissima fiducia e incrementano anche loro il fatturato, quindi vediamo che ci stiamo comportando abbastanza bene. La rete per noi è stata fondamentale. Adesso dovrete far fronte anche al caro energia e carburanti che potrebbe avere un impatto rilevante sui costi di produzione, servizi e trasporti. Crede che inciderà anche sui vostri fatturati? Il rincaro corrente, energia, metano e carburante per noi sono dei costi molto importanti, dei rincari molto importanti. Per ottenere sempre la stessa qualità dobbiamo intervenire sull'investimento delle attrezzature. Inoltre abbiamo anche l'indotto che è molto forte sul territorio. I nostri terzisti sono tutti artigiani, sono tutti brava gente e ci danno una grossa mano. Ora qual è la missione dell'azienda? Siamo un'azienda certificata, curiamo molto l'ambiente, la salute e il posto di lavoro sulla sicurezza. Il nostro obiettivo è di continuare e crescere su questo territorio. Questa è la nostra filosofia e politica aziendale. Ancora cronaca, scontro tra auto e bici questa mattina alle 11.20 a Fano. Una donna di 63 anni di origini napoletane ma residente in città stava percorrendo via Le Rossi contro Mano in sella alle due ruote. Una volta giunta l'intersezione con Vianini ha urtato un'auto che circolava invece regolarmente lungo la carreggiata. Per fortuna nessuno è rimasto ferito sul posto in vigili urbani di Fano. Invece poco prima delle 15.30 un'auto, una Citroen C4 per cause in fase di accertamento è finita contro un palo della pubblica illuminazione in via Spontini nella zona del Lido. Anche in questo caso il conducente, un uomo di 53 anni residente a Mondolfo, ne è uscito il leso. Dopo la partecipazione a importanti mostre, la predella di Perugino e Raffaello, una delle opere più significative del patrimonio artistico di Fano, è tornata nella chiesa di Santa Maria Nuova. Sindaco, la predella costore della Vergine è rientrata a Fano, una bella notizia per la città. Sì, è una bellissima notizia, oggi è rientrata dopo un tour, se così possiamo dire, perché è stata ospita di una mostra a Urbino, poi a Perugia. Ed è un bel momento perché è un patrimonio straordinario che rendeva spoglio la sua assenza a Santa Maria Nuova, dove tante persone vengono a visitarla. E quindi oggi, come dicevo, è una bella giornata. La pala ovviamente non è ancora rientrata perché si trova all'opifizio di Firenze, che è la massima istituzione per il restauro di opere d'arte al mondo. E questo dà il valore dell'opera del Perugino. È un momento importante perché non dimentichiamo che il 2023 saranno le celebrazioni di 500 anni della morte del Perugino. E quindi Fano, proprio per la presenza di queste opere importantissime, vuole celebrarlo nel migliore dei modi. E questo è il primo passo, ma ci stiamo attrezzando per organizzare qualcosa di veramente importante. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordo, come sempre, il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni, 338 49 68 250. Buona serata a tutti voi e arrivederci a domani. Grazie a tutti.